Storia e cultura si intrecciano qui a Carosino soprattutto per quanto riguarda la comunità albanese che ha sempre vissuto in questo antico feudo. Qui siamo davanti alla chiesa della Madonna delle Grazie, incontriamo Pierfranco Bruni che si è sempre occupato delle comunità arbresce, comunità che si sono estinte. Comunità che si sono estinte in parte perché Carosino apparteneva a quella realtà italo-albanese ovvero dell'arberia ionica che costituisce ancora oggi dal punto di vista storico un punto di riferimento in un rapporto tra Puglia, Basilicata, Calabria e Albania. Qui sono arrivati gli albanesi nel momento in cui c'è stata la diaspora tra Italia, Regno di Napoli e realtà turca. Qui ha avuto un ruolo il condottiero famoso Skanderberg di cui si ricorrono 555 anni dalla morte. La figura di Skanderberg è stata fondamentale in questa realtà e soprattutto a Carosino è stata fondamentale perché le prime comunità albanesi sono arrivati qui, sono stanziati qui tant'è che c'è un quartiere che è definito Pipitaro, c'è che Schipitaro, vero e proprio. Quindi qui hanno costruito le loro prime istanze e le testimonianze sono precise sono precise anche nella forma dialettale in fondo e in alcune strutture che rimandano a quella cultura che è la cultura italo-albanese che oggi noi definiamo Arbresh. Questo tempio risale al 1200, riporta testimonianze anche di questa presenza? Sì, questo tempio, questo strutturato, ristrutturato successivamente tra il XV e il XVI secolo ma rimanda chiaramente alla cultura e quindi alla religiosità inizialmente ortodossa italo-albanese tant'è che Santa Maria delle Grazie è una di quelle realtà in cui la presenza degli albanesi in tutto il territorio non solo a Carosino è ben consistente. Perché questo? Perché la figura di Santa Maria delle Grazie è stato sempre un tratto d'unione dal punto di vista religioso-ortodosso tra il mondo latino, il mondo cattolico è la realtà prettamente ortodossa, vera e propria. Qui non dobbiamo dimenticare che tutta quest'area era sotto l'arcivescovato del Brangaccio, quindi era parte integrante di quella cultura in cui le prime presenze albanese sono state di un grande interesse, quindi sono state ospitate intorno al 1400 proprio da questa realtà carosinesse.